Buonasera a tutti, ben arrivati, poi salutiamo i nostri ospiti, un ben arrivato anche a voi. Io leggo generalmente due giornali, uno più spesso, lo dico Repubblica, l'altro è Il Corriere della Sera, due sono le firme, lo dico subito, perché due sono le due grandi firme che io guardo, comunque se no tempo quello lo leggo sempre, perché sono due corrispondenti eccezionali dall'America. Lunedì abbiamo avuto qui Federico Rampini, questa sera avere Massimo Gaggi per me è una grande gioia e anche un onore per la nostra città. Bentornato, benvenuto, speriamo di avere altre possibilità di vederci. Bene, il libro di Federico Rampini, alcuni di voi c'erano nella sera, affrontava un argomento sicuramente importante di scenari geopolitici. Il libro di Massimo Gaggi però, io che l'ho letto come l'altro, è un libro, adesso do tre aggettivi, lo definisco sicuramente spiazzante, destabilizzante, inquietante, molto di più di quello che ci illustrava Federico. Forse sarà perché i temi che vengono affrontati sono temi che noi viviamo molto più da vicino, che rispegniamo ogni momento e quindi anche poi gli effetti pratici sono immediati. Perché non è solo un discorso che riguarda la tecnologia, le questioni che lascia aperte sono prima di tutto il tema del lavoro, il tema della distribuzione dei redditi sempre più accentrati in poche persone, che hanno anche poi il potere dell'informazione, il tema della democrazia, il tema delle diseguaglianze, in sostanza come sta cambiando nel profondo della nostra società. L'autore è bravissimo nell'affrontare questi temi perché da bravo giornalista, attraverso una serie di interviste, di argomentazioni, facendo parlare le altre persone, riesce a mantenere un giusto equilibrio su un tema che è dirimente e che di solito ci trova divisi tra ottimisti, pessimisti, catastrofici oppure integrati e quindi riesce a mantenere esattamente questo equilibrio. Però a volte nel libro riporta alcuni dubbi di chi è stato poi il fautore di questa nuova rivoluzione e quindi anche a noi ci fa sorgere qualche dubbio se loro che sono stati gli artefici di queste grandi innovazioni sono i primi poi a sostenere la necessità di stilare una roadmap per accompagnare questo cambiamento che sta avvenendo in maniera troppo improvviso e che potrebbe avere conseguenze anche inimmaginabili. Quindi il tema della potenzialità dell'intelligenza artificiale è quello che sostanzialmente allarma un po' tutti, perché sembrerebbe ormai che nessuna professione possa essere risparmiata da questa rivoluzione a meno che qualche speranza nel libro, qualche idea ci viene data. Allora io volevo finire questa mia introduzione con una domanda, una battuta però c'è nel libro, è abbastanza, lo dico subito, abbastanza pertinente. Ma io leggendo il libro lei parla di questi mega computer che imparano da solo, che sono riusciti a risolvere queste grandissime sfide, non solo vincendo, ma questo lo sapevamo già, contro i grandi campioni di scacchi, poi anche riuscendo a superare quel gioco cinese che ha qualche migliaio di anni, ma poi sono riusciti a vincere anche contro questi giocatori di poker, che bleffano quindi riuscire a una macchina poi imparare a bleffare anche lei che è fantastico. Volevo chiederle come se sarebbe cavata questo mega computer se fosse stato al posto di Mattarella in questa crisi che abbiamo vissuto tutti e se è possibile eventualmente che qualcuno riesca a inventare, dico anche a Marco, qualche app che riesca magari a farci capire come funziona la situazione italiana. Ecco, se ci riescono allora sposo la causa che ormai allora i computer poi riusciranno a governarci. Bene, a parte la battuta, grazie ai nostri ospiti. Massimo Gaggi, lo conosciamo tutti, è un grande giornalista, ha scritto anche per il Corriere della Sera, editorialista, corrispondente ai Stati Uniti d'America, ha scritto anche molti libri, alcuni anche letti, ne abbiamo approfittato anche in altri incontri sulla fine del ceto medio e nascita da low cost, piena disoccupazione, dalla crisi degli imperi a carta ai paradossi, abbiamo parlato di imperi anche con Federini, Federico, Fubini, Rampini e Gaggi, i traduttori sono venuti ormai stasera, sono fuori fase. Beh, un grazie, è un onore per noi avere qui Aldo Civic, socio della Sotsas Associati e tra anche i fondatori della... Eh? Però che... Non hai un curriculum aggiornato. È colpa, non dovrò dire alla segreteria qui, ma... Però questo lo possiamo dire, è questo un onore, il fondatore di Memphis, o no, possiamo dire? Buono, ecco, questo è importante. Poi anche due grandi progetti presentati alla Biennale, che lei è anche autore di pubblicazioni, ma soprattutto anche insegna in prestigiosi facoltà, questo lo possiamo dire. Non cito perché altrimenti rischio poi di dire qualcosa che magari non è più aggiornato. E da ultimo Marco Mari, cofondatore e amministratore di Italia Innovation, un'azienda che si occupa di formazione e progetti per l'innovazione. Quindi avete capito che qui abbiamo a fare da discarsa, da condurre la serata con il nostro autore Massimo Gaggi su questo libro, Homo Premium, come la tecnologia ci divide, diciamo delle persone estremamente competenti. Intanto un grazie a voi tutti che siete qui presenti. L'organizzazione, ed è come sapete il Guangxi, avviene grazie anche a patrocinio della città di Valdagno e al prezioso contributo di una società che è la Citec SRL, qui abbiamo anche l'amministratore, ed è una bella realtà presente nel nostro territorio, molto attenta non solamente quindi al business, ma attenta anche a queste iniziative culturali. Darei la parola all'assessore Magnani per un saluto da parte dell'amministrazione. Grazie. Buonasera, buonasera. Ovviamente il saluto da parte dell'amministrazione comunale, del sindaco, di tutta la Giunta e il mio personale. Io faccio dei discorsi molto più, come dire, attaccati a quello che tutti viviamo quotidianamente. Mi capita di frequentare le discariche, penso anche a voi, dovete si buttare via oggetti più strani in continuazione. e devo dire che quando io ci vado cerco di prendermi del tempo perché è una cosa che mi incuriosisce, è quello che la gente butta. In un'occasione mi è capitato di vedere la macchina che si ferma, tirano fuori una enciclopedia grandissima che ricordo a suo tempo avrei fatto non so cosa per avere, e chiedendo all'ibita, ma come mai le buttate? Le enciclopedia mica servono più a nulla, tanto c'è il telefono. E quindi, vabbè, ovviamente, penso che è una cosa che in tanti conosciamo, ma che riesce comunque, che è riuscita anche in quell'occasione, a lasciarmi con dell'amaro dentro. Altra piccola perla che mi è capitato di vivere in questi giorni, ho avuto un incontro per l'organizzazione, a partire da settembre, dei corsi dell'Università degli Adulti e degli Anziani. Il Comune mette a disposizione la sala, non è che partecipi a le attività didattiche, però sono stata colpita da uno dei corsi che viene organizzato per queste 240 persone. E il corso è riferito all'approfondimento e all'uso dello smartphone. Allora, di fronte a tante bellissime cose che potrebbero anche essere raccontate, spiegate, la cosa, devo dire, mi ha colpito. Ma mi ha colpito nella misura in cui magari sui nostri telefoni tutti riceviamo qualche messaggino dagli amici e ce n'è uno che tempo fa girava, allora c'è il signore che chiama per ordinare la pizza, ordina una pizza e gli dicono, ma no, guardi che lei di solito ordina la pizza e i quattro formaggi, adesso me la reinvento un po' la cosa. Ma voi come fate a saperlo? Beh, sappiamo che intanto ordina la pizza e i quattro formaggi, ma che poi la paga con la carta di credito, anzi attenzione che la sua carta di credito sta scadendo, e poi si ricordi che se deve andare all'estero il suo passaporto è già scaduto. Beh, l'ho sintetizzata, ma dice bene una verità quanto nella nostra vita qualcun altro continui ad entrare in una maniera che noi nemmeno immaginiamo, ma credo che viviamo tutti perché se abbiamo un telefono e ci connettiamo alla rete ci arrivano i messaggi che non vorremmo mai, che va bene stacchiamo, però ci tormentano in qualche modo. E detto tutto questo, non ripeto quello che in maniera molto interessante ha già detto Eliseo, cioè quanto è bello il libro nei passaggi che fa nel parlare del lavoro, della democrazia, dell'economia, di quanto potrà esserci difficoltà nel mondo del lavoro. Ma mi ha colpito perché per due volte in una settimana, l'altra sera da Rampini e poi nel suo libro ho sentito citare come invece un esempio, e sarà perché avevo letto i libri, mi è piaciuto, di Noah Harari, antropologo che vive in Israele, in Palestina, il quale invece fa un'analisi diversa del mondo, alla luce di un'etica che ha sfaccettature che forse abbiamo anche abbandonato. Perché lo cito? Perché io credo ci debba essere una speranza che un mondo così invadente non arrivi fino in fondo a toccare i rapporti sociali importanti, i rapporti che ci legano con chi abbiamo intorno, ma che comunque riusciamo sempre ad impegnarci a trovare strade, perché la tecnologia e tutto quello che è legato a questo mondo diventino degli strumenti da utilizzare, ma non diventino quello che noi siamo. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti, grazie mille Iliana e Eliseo per l'introduzione. Volevo subito dire che tra paura degli algoritmi e inciampi sul curriculum abbiamo pienamente colto lo spirito dei tempi. Va tutta riuscita a male. Ad ogni modo. Grazie al Guanci per aver organizzato questa presentazione e ovviamente all'autore Aldo per essere qui assieme a tutti noi questa sera. Il mio compito è quello di condurre questa conversazione e anche spiegare perché abbiamo voluto presentare questo libro e invitare anche Aldo. Questo libro nel legge lo mi ha ricordato un po' gli ipertesti, che era una cosa che andava molto quando facevo le scuole medie e l'inizio del liceo, perché ogni capitolo e ogni tema in realtà si andava a introdurre come approfondimento un tema ancora più profondo e pieno di perché e di domande. Perché è sicuramente, viste le storie che vengono raccontate, un libro sulla tecnologia, ma le questioni che apre sono sui cambiamenti che la società e la vita di noi stessi, delle persone, stanno attraversando in virtù del progresso tecnologico. E dunque, vista anche certi timori o certe domande che comunque creano anche un po' di inquietudine nel corso dei capitoli, ci è sembrato che Aldo, con la sua figura e il suo ottimismo progettuale e le sue anche esperienze più recenti, potesse portare anche delle soluzioni o delle prospettive ai temi che Dottor Gaggi ha aperto. Perché? Aldo ovviamente lo potrà spiegare direttamente, ma nel libro a più riprese si parla del ruolo del sapere umanistico. e a me questo ha affascinato molto, perché mi ha acceso anche una speranza di poter avere anche come italiano una prospettiva o qualcosa da offrire insomma a queste conversazioni. Il sapere umanistico come un potenziale fattore di sintesi e interpretazione di questi cambiamenti, non detto dall'Accademia della Crusca, ma detto dagli stessi padroni o comunque fautori del big tech. E Aldo, da designer e da progettista e da anche lui, insomma, nel suo lavoro interprete di questo sapere umanistico, è andato a cercare di risolvere o iniziare a risolvere una serie di questi problemi direttamente alla fonte. Perché negli ultimi mesi è stato San Francisco e in California a cercare di capire come anche il lavoro che ha fatto insomma in tutta la sua carriera sta avendo un impatto e viene accolto e percepito da chi comunque non solo sta cambiando i destini della tecnologia o dell'industria, ma i destini delle comunità e delle persone. Quindi questo, insomma, è un po' il mio incipit. Lascerei soprattutto sugli argomenti del libro la parola al dottor Gaggi per poi lasciarla ad Aldo e aprire insieme una conversazione su quanto emergerà. Grazie Marco e grazie Quang Sinet e a tutti voi. Nella seconda volta che vengo qui, l'altra volta era molti anni fa e non mi ricordo quanti anni fa, ma mi ricordo l'atmosfera che c'è qui che è molto appassionata, molto attenta, interessata a queste cose ed è una cosa, mi assicuro, per chi fa il mio lavoro e scrive queste cose è molto gratificante e molto importante. Quindi in realtà l'onore non è, come ha detto prima lui, non lo faccio io a voi, ma siete voi che lo fate a me come l'avete fatto l'altro giorno a Federico, il quale anche Rampini, che oltre ad essere giornalista di un giornale concorrente è un caro amico e appunto anche lui mi diceva che venire da Baldagno è una delle cose più gratificanti per una persona che scrive libri e lui mi scrive onestamente, scrive testi che hanno un successo che non è neanche comparabile con quelli che scrivo io. Dunque, perché ho scritto questo libro? Intanto c'è stato un grosso stacco fra quelli che ho fatto precedentemente e questo qua, sia per motivi tecnici, nel senso che per alcuni anni sono rimasto totalmente solo al Corriere negli Stati Uniti e quindi non c'è stata la possibilità di alzare la testa rispetto ai primi anni quando prima della crisi dell'editoria eravamo in quattro e quindi si riuscìva ad avere anche il tempo per pensare e scrivere qualcosa di più lungo periodo. Però ho cominciato a pensarci da un bel po' nel senso che scrivendo soprattutto per gli inserti culturali, la lettura, queste cose qui, approfondendo temi tecnologici a cavallo come ha detto generosamente Marco, filtrati attraverso anche le questioni dell'umanità, della cultura umanistica e delle esigenze di un sistema politico di gestire la tecnologia in modo corretto. Mi hanno reso conto già da anni che stavamo andando verso una direzione abbastanza pericolosa, ma non volevo fare un libro eccessivamente pessimista o che spaventasse oltre modo. Oltretutto il clima che c'era fino a qualche anno fa intorno alle aziende della Silicon Valley era talmente positivo che era anche difficile fare un discorso di questo tipo. Il discorso del lavoro era già nato, il rischio appunto di avere una crescita delle diseguaglianze e una perdita di posti di lavoro era già abbastanza forte, ma il mondo degli esperti si divideva tra tecnotessimisti e tecnotimisti che invece ritengono che, come è avvenuto sempre nelle precedenti rivoluzioni industriali, i posti che spariscono necessariamente in seguito alla rivoluzione industriale vengono sostituiti da settori nuovi che nascono, come è stato quando è morta l'economia del cavallo, della diligenza e delle locande della posta dove ci si fermava durante i lunghi tragitti a cavallo ed è nata l'economia del cavallo di ferro, della locomotiva, delle strade ferrate che ha prodotto l'industria siderurgica, ha prodotto uno sviluppo dei commerci, ha creato molti più posti di lavoro e anche molta più ricchezza. Mi sono reso conto negli ultimi anni che da un lato le cose stanno andando in una direzione abbastanza diversa e questo non significa dover tirare il freno, ma significa semplicemente che la politica deve cominciare a affrontare questi problemi e cercare di incanalarli in modo giusto, in modo da utilizzare la tecnologia che sicuramente non può essere frenata e che ci offre anche tante opportunità positive a cominciare da quelle delle cure mediche, di utilizzarla in modo corretto per evitare invece che poi produca dei danni. E tutto sommato nell'ultimo anno, anno e mezzo, è diventato molto più semplice fare un discorso di questo tipo perché in seguito ad alcune vicende, eccessi dei social network, problemi politici che ci sono stati negli Stati Uniti a cominciare dallo scandalo del Russiagate per finire con questo che è scoppiato praticamente quando ho pubblicato il libro, questo di Cambridge Analytica che in qualche modo utilizzando i dati di Facebook ha in qualche modo interferito e forse alterato l'esito delle elezioni americane, si è creata una sensibilità molto più elevata fra la gente e anche a livello politico e parlamentare. Quindi secondo me adesso sono maturi i tempi per affrontare queste problematiche senza essere apocalittici perché poi i problemi ci sono, ci sono sempre stati con la tecnologia, ci sono stati quando si è diffusa l'energia nucleare, ci sono stati quando la chimica ha cominciato a produrre anche le armi chimiche batteriologiche quindi si sa che ogni tecnologia avanzata, se usata male, può anche essere devastante. Si tratta appunto di imparare a usarle per bene. Qui è più difficile che in altri settori perché intanto le tecnologie digitali sono per loro natura virtuali, impalpabili e quindi sono più difficili da trattare. In secondo luogo perché la politica fatica a capire il loro funzionamento, le loro possibilità, l'evoluzione è molto veloce e quindi è anche difficile immaginare in che direzione si va e quindi c'è più difficoltà da affrontare i problemi. Però onestamente io credo che introducendo entro certi limiti dei sistemi di regolamentazione e di regolamentazione dell'uso della tecnologia, in particolare maggiore trasparenza dell'uso degli algoritmi per esempio e una certa regolamentazione anche dei monopoli digitali che si sono creati, già questo potrebbe fornire un contributo molto importante. Non è avvenuto fino adesso a mio avviso perché le aziende tecnologiche sono nate avendo intorno a sé un alone di fascino che nasceva dal fatto sia che queste tecnologie che ci sono state offerte in modo sostanzialmente gratuito per molti anni ci hanno facilitato molti aspetti della vita e quindi sono state gradite, sia perché i giovani geni della Silicon Valley sono figli della controcultura libertaria californiana degli anni 60 e 70, sono cresciuti appunto in un clima culturale che la sinistra americana ha sempre apprezzato ma anche credo la società in modo più generale e per come li ho conosciuti alcuni di questi personaggi negli anni sicuramente avevano all'inizio della loro avventura imprenditoriale delle intenzioni anche, non solo imprenditoriali ma anche di una volontà di impattare sulla struttura sociale in modo positivo. Io racconto nel libro degli incontri che ho avuto con il cofondatore di Google, Sergio Ibrin, in varie occasioni soprattutto durante i forum di Davos e l'ho visto passare dai primi anni quando la società ancora non era quotata e lui era un giovane imprenditore appassionatissimo dei temi del risparmio energetico, dell'ecologia. Mi ricordo proprio come fosse oggi una discussione a tavola con uno scienziato israeliano che è esperto di economia dell'idrogeno e la sua delusione quando gli hanno spiegato che l'idrogeno non era applicabile nei sistemi di trasporto urbano, sulle strade perché per una serie di difficoltà tecniche, di motivi di pericolosità e di complessità del sistema era letteralmente appunto deluso, continuava, quasi non ci credeva perché credeva che quella potesse essere una delle soluzioni dei problemi dell'inquinamento e dell'energia. Poi l'ho ritrovato pochi anni dopo con la società quotata, obbligato a seguire ormai gli schemi di Wall Street che si era anche adeguato a vivere alcune contraddizioni come il fatto che continuava a girare con una Toyota Prius a basso impatto ambientale, ibrida, dava anche un contributo di alcune migliaia di dollari l'anno ai suoi codipendenti che acquistavano un'auto dello stesso tipo, però poi si era anche comprato insieme all'altro fondatore, Sergey Brin, un Boeing 767 da 300 posti col quale lui e Sergey Brin giravano per il mondo consumando e inquinando alla grande e un paio di battute scherzose su questo argomento hanno fatto sì che il nostro rapporto finisse lì sostanzialmente. Questo per dire che cosa? Che io credo che sia giunto il momento di affrontare queste problematiche sia dal punto di vista appunto dell'uso corretto della tecnologia per lo sviluppo dell'essere umano dal meccanismo dell'apprendimento scolastici fino alla politica, le suggestioni della democrazia diretta e anche nel mercato del lavoro perché di tutto questo ormai ci si comincia a occupare seriamente a livello politico ma soprattutto hanno cominciato a occuparsene. Ecco direi che se c'è una cosa che mi ha fatto scattare la scintilla di mettermi a lavorare su questo libro è stato quando mi sono preso conto sulla questione del lavoro della necessità di trovare dei correttivi che consentissero di rendere sostenibili l'uso di queste tecnologie di diffonderlo senza che questo crei squilibri sociali eccessivi di questo problema si sono fatti carico in primo luogo ormai gli imprenditori stessi della Silicon Valley quelli che un tempo negavano che potesse essere un problema di questo tipo adesso si sono resi conto che non solo il problema esiste ma stanno cominciando a affrontarlo loro visto che non lo fa la politica in America perché parlare di redistribuzione del reddito in America è credo anche in parte anche qui ma sicuramente in America l'idea che si possa dare a qualcuno del reddito a fronte di nessuna prestazione lavorativa è considerato quello che chiamano money for nothing è considerato un incentivo a parassitismo quindi ma sono gli stessi imprenditori della Silicon Valley che rendendosi conto che la situazione sta scivolando verso una difficile governabilità hanno cominciato a sperimentare usando fondi loro Y Combinator sicuramente ben conosci e altre aziende in alcune realtà sociali limitate nella città di Oakland e nella città di Stockton su alcune migliaia di persone che hanno perso il lavoro per motivi di evoluzione tecnologica o che hanno altre forme di povertà ha cominciato a studiare la possibilità di dare un reddito che non è il reddito di cittadinanza che hanno proposto i 5 Stelle qui che è una cosa generalizzata e pensata soprattutto per il mezzogiorno ma una cosa più tarata su chi perde il lavoro ha bisogno di essere riconvertito questo appunto perché si sta creando questa necessità di intervenire profondamente in questi settori io non so se voi vado avanti posso andare avanti anche a oltranza però forse è meglio che dividiamo gli interventi sono molto contento di essere qui perché sono molto interessato ai temi che tratta il libro in quanto due anni e mezzo fa compivo 60 anni e ho deciso che volevo cambiare la mia vita volevo andare da un'altra parte non mi sono mai mosso dal Veneto e da Milano e avendo avuto diciamo un inizio di carriera con un grande maestro in un momento molto interessante per il design parlo di Sotsas negli anni 80 che ci faceva soci alla Pari e della nascita di questo gruppo che si chiamava Memphis e che a quel tempo rappresentava un'avanguardia mi rendevo conto che bene o male le cose tutto sommato che stanno cambiando il mondo non succedono da noi e tutto sommato credevo che San Francisco fosse l'epicentro di questo cambiamento credo che tutto sommato gran parte del libro molto a origine nella Bay Area se non nella Silicon Valley proprio e diciamo leggendo appunto prima quando l'assessore ha nominato Arari era capitato di leggere un libro di Arari l'uno Omo Deus l'ultimo dove era più inquietante del libro il video di quando lui presenta il libro perché è molto più tragico e diciamo quella che poi è diventata un'ossessione è quella di dire ma se ci pensiamo vent'anni più avanti da adesso e ci guardiamo indietro cos'è che avremmo potuto fare ora? cioè quanto si muove nell'inevitabile e se c'è uno spazio per la progettualità se l'approccio umanistico a certi livelli può avere un senso o meno e ho pensato, mia moglie è di San Francisco peraltro ma lei vive qui e io vivo lì adesso, ci siamo scambiati ma quello che mi interessava a me piace di più Los Angeles, di San Francisco ma San Francisco credo che sia la massima concentrazione credo di intelligenza, ci sarà Boston, credo in un altro modo ma San Francisco la massa è di più e poi c'era quest'altra cosa che c'è, questo fatto, quello che accennavi adesso che c'è una quantità di soldi smisurata e una quantità di problemi altrettanto grande perché proprio prima quando ho denominato Stockton e ho clan Stockton è un esempio incredibile perché è un sindaco di 27 anni di colore di un vigore, di una forza incredibile e ti fa capire che la politica può fare tanto e lo stesso la sindaco di Oakland che era lei che aveva avvertito quelli da cui arrivava la polizia a controllare se erano legali o no a dire state attenti perché arriva un controllo domani per cui è molto interessante perché l'America rappresenta sempre diciamo il peggio e il meglio per certe cose e l'altra cosa, sempre vedendola per quello che sono i miei interessi era il fatto di come quest'idea di questo capitale che come appunto dicevi adesso comincia a essere a disposizione dei problemi pubblici in quanto non è la politica che si sta occupando possano diventare delle incredibili opportunità di mettere insieme nuovi progetti progetti che stanno tra che stanno molto tra il sociale voglio dire è una zona appunto in cui c'è una grande ricchezza nello stesso modo c'è una grande povertà ci sono problemi di salute, trasporti, educazione ci sono problemi di tutti i generi che in parte sono problemi dell'America ma che lì si sono diciamo credo molto radicalizzati per il fatto che la vita è incredibilmente costosa è diventato un posto impossibile non si può costruire di più è un posto inquinato ci sono un sacco di problemi allora sapendo che l'americano di sua mentalità è comunque un ottimista che crede ogni generazione si reinventa la vita credo che sia un posto molto particolare in questo momento perché i soldi sono così tanti che tante volte non hanno significato cioè 100, 200, 300 milioni sono anonimi più delle volte per cui quella che è stata che sto cercando di mettere in piedi con diciamo non è una cosa facile e non so se ci riuscirò è di capire attorno insieme ad una scuola con cui adesso vado ad insegnare intorno a quali temi progettuali si riescono a mettere insieme delle persone diverse per dei progetti virtuosi sapendo che puoi contare su diciamo un capitale privato che in questo momento io credo e spero abbia diversi motivi per voler diventare per voler lasciare un piccolo segno nella propria vita questo qui è un po' l'inizio della cosa nello stesso tempo stiamo sviluppando una piattaforma che presentiamo adesso a Venezia al caffè Florian che per chi vuole andare a vederla e fare in rete si chiama incomplete punto design che è un'indagine sulla vita sul design crediamo l'abbiamo fatto perché crediamo che in questo momento in cui non ci sono risposte sia interessante lavorare sulle domande per capire in qualche modo cos'è la risposta dell'intelligenza collettiva a certe problematiche diciamo rispetto diciamo all'idea che parliamo di natura di società e di nuove tecnologie i primi quattro temi di cui che abbiamo trattato e su cui abbiamo fatto le domande sono cosa ci manca e cosa facciamo rispetto a quello che ci manca cos'è il progresso e se veramente abbiamo l'idea di cos'è il significato di progresso il terzo è l'opportunità cos'è l'opportunità per chi è l'opportunità se per tutti o solo per qualcuno e di cosa in teoria il design inteso non come disciplina rigida del design ma come catalizzatore di diversi saperi può fare per questo finiremo questa parte di lavoro all'8 di settembre quando chiude prima della chiusura della biennale e da lì vorremmo diventare una piattaforma di discussione su queste tematiche al fine di lavorare con persone esterne che portano i loro contributi finalizzati al capire quali sono i progetti se ci sono che possono aver senso questo è un po' la prima parte di quello che volevo dire grazie grazie a entrambi io volevo fare a entrambi una domanda sul sul ruolo della fiducia e sul concetto di fiducia che da quanto percepisco e anche da quanto letto è messo molto in discussione dai cambiamenti che stanno avvenendo a quanto io ho sempre capito la fiducia è sempre stato uno degli elementi chiave dei pilastri dei sistemi di cui facciamo parte sia economici come il capitalismo sia di potere come la democrazia rappresentativa e da un lato dall'altro si trovano nel libro e nelle storie raccontate testimonianze di fenomeni come il blockchain che dovrebbe andare a sostituire secondo alcuni diciamo i meccanismi di certificazione e di controllo che finora sono stati in qualche modo umani e che dovrebbero essere affidati ad algoritmi dall'altro si trovano riferimenti anche di sfiducia da parte degli stessi imprenditori di quella zona nella democrazia rappresentativa in quanto secondo Peter Thiel solamente il 2% della popolazione mondiale sarebbe in grado di maneggiarla se non erro da quello che ho letto e quindi però poi nel libro ci sono anche delle risposte delle reazioni che stanno avvenendo e la cosa che mi ha incuriosito è che non arrivavano tanto dal versante democratico negli Esti Uniti ma più da un versante insomma repubblicano o diverso da questo dunque la questione della fiducia sicuramente è centrata si può ne sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista della credibilità dell'affidabilità del sistema economico così come è stato sviluppato fino ad oggi per quanto riguarda il rapporto con le imprese soprattutto le imprese tecnologiche della Silicon Valley il discorso della fiducia è stato alterato dal fatto che come dicevo prima fino a un certo punto finché hanno mantenuto delle dimensioni contenute e hanno fatto delle politiche che alla gente apparivano abbastanza accettabili di cui si vedeva l'utilità sicuramente questa fiducia si è sviluppata molto forse anche al di là di quanto queste imprese meritavano adesso c'è una sorta di reazione opposta probabilmente altrettanto eccessiva legata al fatto che ci si è resi conto all'improvviso che queste aziende sono diventate dei semi monopoli alcune di queste almeno in alcuni casi si chiede lo smembramento e non ha molto senso come ad esempio nel caso di Google è un motore di ricerca che ha il 90% del mercato americano e credo mondiale ma è anche il motore che effettivamente funziona meglio e sul quale è confluito il traffico in modo naturale quindi è abbastanza difficile da spezzare mentre invece nel caso delle reti sociali sicuramente Facebook che è arrivata ad avere il 78% del traffico mondiale è un centro di potere eccessivamente esteso e si poteva fare qualcosa per evitare che lo diminisse perché gli è stato consentito negli anni di acquisire oltre a Facebook medesima di acquisire Instagram di acquisire Whatsapp di sviluppare Messenger quindi ormai è una piattaforma che è diventata di gran lunga egemone quindi questa cosa qui la gente e la politica l'hanno scoperta all'improvviso adesso c'è una reazione anche sulla base di quello che è successo gli scandali che sono avvenuti rispetto alle elezioni americane molto forte e questo fenomeno di perdita di fiducia è altrettanto è altrettanto forte altrettanto sensibile per quanto riguarda la politica sicuramente dobbiamo tener conto che la diffusione delle tecnologie informatiche hanno cambiato il nostro rapporto non solo con la tecnologia ma anche il nostro rapporto con la cultura il nostro rapporto con il modo di apprendere e di rapportarci agli altri e di rapportarci alla politica alle istituzioni politiche questo lo sperimenta chi fa il mestiere del giornalista nel rapporto quotidiano con i lettori che oggi attraverso le reti informatiche non solo è molto più diretto ma anche è molto più brutale è molto più facile essere maltrattati insultati di quanto non fosse ai tempi delle lettere che venivano mandate scritte a penna o degli incontri come questo ma lo vedete anche dalla sprezza del dibattito politico che si svolge senza mediazioni particolari i leader politici che vanno a fare Facebook le dirette Facebook senza nessuna mediazione sono capaci di chiedere l'impeachment del capo dello Stato il giorno dopo chiedere allo stesso capo dello Stato invece di svolgere un ruolo attivo di ricucitura degli equilibri politici come se nulla fosse sono cose che nel mondo di qualche anno fa erano letteralmente impensabili questo per il deterioramento di una serie di meccanismi ma anche perché l'immediatezza della tecnologia ha cambiato il nostro modo di reagire il nostro modo di leggere il nostro modo di concentrarci sulla lettura c'è un personaggio per il quale ho grande stima anche se ha commesso dei lettori molto gravi Ivan Williams il cofondatore di Twitter tuttora è uscito da Twitter molti anni fa dalla gestione ma è tuttora credo il maggiore azionista o uno dei maggiori azionisti poi ha fatto altre cose Medium ma altre piattaforme che un anno fa ha fatto una fortissima autocritica dicendo ci siamo illusi che bastasse creare una rete aperta a tutti che desse a tutti la possibilità di esprimersi liberamente per creare un mondo migliore e abbiamo sbagliato radicalmente e in tempi più recenti ha fatto un'analisi ancora più approfondita dicendo abbiamo dato nelle mani delle persone senza spiegargli cosa erano gli strumenti molto potenti che avevano la capacità di accelerare e amplificare i comportamenti umani senza spiegargli cosa si trattava forse noi stessi ce ne siamo accorti con grande ritardo quindi oggi si tratta un po' di riprendere in mano questi meccanismi non è facile perché ovviamente è una transizione non solo velocissima perché queste tecnologie ci cambiano sotto gli occhi in continuazione ma anche appunto molto profonda perché si tratta poi di entrare su meccanismi che riguardano la capacità di apprendere la capacità di studiare il giudicare fino a che punto è necessario avere a questo punto memorizzare le nozioni e fino a che punto può bastare invece semplicemente essere abili nella capacità di consultare i motori di ricerca quando abbiamo bisogno di acquisire una nozione e poi c'è il grande problema del rapporto con i meccanismi della democrazia sul quale si innesca anche il discorso che stai facendo tu della blockchain questa forte propensione che si sta sviluppando per la democrazia diretta lasciamo perdere adesso la polemica politica specifica di un partito che può avere più di altri l'interesse a sviluppare forme di consultazione degli elettori dirette via computer e a pensare che questo possa sostituire le consultazioni elettorali tradizionali e il ruolo di rappresentanza che svolgono i corpi elettivi di fatto al di là di questa polemica esiste sicuramente il problema che per molti di noi credo soprattutto i più giovani in un'era in cui c'è appunto la possibilità di votare in tempo reale attraverso uno strumento informatico e esprimersi sui problemi mano a mano che si manifestano giorno dopo giorno l'idea che si voti una volta solo ogni 4 o 5 anni in una cabina di legno con una scheda di carta che si piega in 8 pezzi con una matita copiativa può apparire effettivamente qualcosa di antidiluviano e addirittura portare alcuni a dire che questa non è più democrazia come stanno cominciando a dire alcuni ecco si tratta secondo me di recuperare anche su questo un equilibrio parlavo tempo fa con una scienziata computer scientist molto giovane molto intelligente molto orientata sul futuro che lavora peraltro ai programmi politici dell'Unione Europea sulla tecnologia si chiama Marcella Azzori Sarda e diceva la cabina elettorale è il sistema più preciso più democratico e più rispettoso della Costituzione che abbiamo in questo Paese che si possa immaginare perché per quanto l'informatica ci offre grandi strumenti non c'è nessun modo votando privatamente a casa o peggio sul posto di lavoro ma votando da un computer per garantire che sia rispettato il dittato della Costituzione che dice che il voto deve essere espresso in modo totalmente libero in un posto in cui uno non è soggetto a nessuna pressione esterna come è appunto la cabina elettorale perché quando il voto lo esprimi via computer a parte le possibilità di falsificazione che in parte possono essere a questo punto si può sperare di assicurare attraverso tecnologie come la blockchain ma a parte questo c'è il rischio che il voto non sia espresso in modo libero perché tu lo esprimi a casa dove hai un genitore o un'altra persona che ti influenza o peggio sul posto di lavoro dove c'è un datore di lavoro che controlla come tu voti e ti può punire sul piano professionale Aldo a te su questo chiederei anche una riflessione in più anche sull'empatia perché nel libro a un certo punto penso menzionando si dice che uno degli skill più importanti sono i più importanti di questo secolo è l'empatia che mi è sembrato una parola che può far parte comunque anche del tuo universo posso prima dell'empatia mi interessava visto che l'opportunità di avere qui Massimo Gaggi diciamo non mi succede tutti i giorni volevo chiederti secondo te scusami e poi arrivo a quello che margine cioè rispetto cos'è che progetto cos'è che modifica rispetto a come sta sviluppandosi tutto questo sistema di parliamo dell'intelligenza artificiale principalmente quali sono le possibilità diciamo sapendo che uno non si mette contro quello che non l'ineluttabile ci sono perché mi aveva colpito che Harari diceva sì perché se noi ci muoviamo adesso abbiamo ancora delle possibilità secondo te dove sono le zone di possibilità rispetto diciamo a salvaguardare non lo dico in senso antropocentrico ma in senso del creato in generale com'è che noi possiamo fare qualcosa perché il futuro per quanto sia possibile per quanto possiamo riuscire a fare non sia non abbia delle derive peggio di quello che possono essere ci sono vari aspetti le due cose che mi vengono in mente le più immediate sono smettere di credere nell'onipotenza dell'algoritmo e questo credo che gli stessi imprenditori della Silicon Valley comincino a cambiare orientamento qualcuno perché ha sperimentato sulla sua pelle che essersi fidato troppo agli algoritmi poi gli ha creato dei problemi non da poco ma se pensi al mondo ancora di un anno fa Facebook Google si rifiutavano di di essere considerati responsabili per quello che finiva in rete sostenevano che appunto avevano sistemi automatizzati che erano in grado di controllare l'immissione di contenuti scabrosi o di altro tipo e si rifiutavano anche di di inserire un controllo umano massiccio su 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 questo materiale che veniva immesso in rete è una fiducia che era ben riposta in alcuni casi per esempio sono riusciti abbastanza rapidamente a mettere sotto controllo la diffusione di contenuti pornografici perché per l'algoritmo per la macchina tu che sei un imprenditore lo sai molto meglio di me è abbastanza facile riuscire a capire dove ci sono scene di nudo e quindi a bloccarle l'algoritmo non è riuscito invece con altrettanta abilità a capire laddove c'erano invece dei discorsi razzisti violenti antisemiti e cose di questo tipo e proprio sulla esempio che hai fatto anche quello dell'aereo della United che ha cacciato fuori il dottore quello è un caso un po' diverso quello è il caso di un algoritmo che ha dato una risposta che in sé era corretta ma che andava interpretata dalla persona la United forse per loro che non sanno di cosa stiamo parlando riferisco al fatto che c'è stato forse quello ricorderete un caso un paio d'anni fa di un medico che era stato imbarcato su un volo la United un medico di origine cinese tra l'altro asiatica era l'ultimo volo della giornata lui era stato imbarcato c'era il biglietto c'era tutto quindi era già il posto doveva la United aveva bisogno di mandare una persona due persone credo due piloti nell'aeroporto di destinazione di questo volo perché c'era un aereo bloccato con 150 persone a bordo che non poteva partire perché l'equipaggio era incompleto quindi sulla base dei regolamenti aeronautici internazionali aveva il diritto di scaricare due passeggeri che sono regolarmente a bordo perché le norme internazionali in caso di necessità come questo lo rendono possibile ovviamente ci sono delle regole per farlo nel modo meno doloroso possibile in genere si offrono dei soldi a quelli che possono scendere in questo caso ne sono stati offerti troppo pochi era l'ultimo volo quindi che restava doveva restare a dormire in questa città e nessuno si è offerto a quel punto l'algoritmo fa una scelta comincia a escludere tutte le persone che sono nei programmi quelli i clienti frequent flyer quindi quelli sono protetti ovviamente evita di colpire i nuclei familiari chi porta bambini minorenni e cose di questo tipo è tutto molto ragionevole alla fine questo sistema però è individuato come persona che viaggiava da solo eccetera un medico che aveva il giorno dopo all'alba già una serie di visite fissate che ha detto io non scendo a quel punto anziché avere del buon senso trovare una soluzione diversa offrire più soldi trovare una soluzione diversa l'equivaggio si è impuntato e sulla base dell'indicazione dell'algoritmo ha detto no tu per legge devi scendere hanno chiamato la polizia questo si è rifiutato è stato rascinato fuori ha sbattuto la testa contro la base dei sedili è uscito sanguinante ne è venuto fuori uno scandalo per cui la United ha dovuto chiedere scusa non solo a lui ma a tutti i passeggeri il giorno dopo ha perso un miliardo e mezzo di dollari di capitalizzazione in borsa cioè è un disastro ma quello è stato un caso di l'algoritmo a suo modo aveva fatto il suo mestiere e chi poi l'ha applicato che non ha avuto nessuna il caso invece di Zuckerberg è un po' diverso cioè lui ha avuto per molto tempo fiducia cieca e assoluta negli algoritmi e solo negli ultimi mesi davanti a alle vicende delle interferenze politiche nelle elezioni americane si è deciso ad assumere alcune decine di migliaia di verificatori che adesso stanno controllando in carne ed ossa che stanno controllando in tutte le elezioni comprese quelli italiani di due mesi fa ma hanno fatto nelle elezioni francesi in quelle tedesche controllare il traffico per stare molto più attenti a che ci siano limitate queste infiltrazioni sia di uso distorto da parte di partiti politici dell'informazione politica ma soprattutto le infiltrazioni da parte straniera insomma è antipatico dirlo ma soprattutto russa perché poi ormai ci sono prove schiaccianti sul fatto che abbiano cercato di creare caos sicuramente negli Stati Uniti e non solo nelle elezioni il caso forse che a me ha colpito di più negli Stati Uniti è stato quello che si è verificato a Dallas mi ricordo di Houston Dallas è raccontato nel libro comunque mi pare Houston dove un giocatore di basket nero musulmano ha finanziato molti anni fa la costruzione di una moschea che vive da dieci anni una vita tranquillissima adesso hanno fatto un progetto per allargarla creando una biblioteca e un punto di ristoro vicino a questa moschea e improvvisamente è sorta un'associazione per la tutela per la difesa della cultura occidentale che ha cominciato a dire che si stava islamizzando la città di Houston ha invitato la cittadinanza a scendere in piazza per bloccare questi progetti di espansione e di islamizzazione è riuscita a far montare una protesta molto forte sono cominciate le manifestazioni radicali dell'estrema destra sono scesi in piazza per chiedere la chiusura della moschea la sinistra libera democratica è scesa in piazza per difendere il diritto dei musulmani di avere la loro moschea siamo andati molto vicini allo scontro fisico la polizia si è messa di mezzo si sono evitati gli incidenti la sera quelli che avevano alimentato questa manifestazione sono tornati a casa con un dubbio come mai i capi di questa associazione non erano scesi in piazza anche loro non si erano manifestati il motivo era molto semplice poi hanno fatto cose che non esistevano stavano in realtà in una palazzina di cinque piani a San Pietroburgo dove sono stato agosto dell'anno scorso ma non mi hanno fatto entrare dove c'è appunto questa centrale di disinformazione fatta da ragazzi normalissimi che poi escono vanno a pranzo nei fast food dell'intorno che fanno orario dalle 9 di mattina alle 9 di sera sono degli impiegati e fanno questo lavoro qui seminano disinformazione interferiscono indeboliscono i regimi che quel paese lì considera regimi avversari che vanno in qualche modo indeboliti un paese che ha perso potere a altri livelli a livello economico a livello di forza militare che lo recupera avendo una forte abilità nell'uso delle tecnologie informatiche quindi voglio dire in questo senso dicevo quindi secondo me la risposta è nella capacità sia di questi imprenditori che si stanno rendendo conto che stanno andando in conto a problemi molto seri perché poi anche Google anche Facebook quando cominciano a perdere gli inserzionisti perché sui loro siti compaiono delle cose che sono molto molto pesanti cambiano rotta ma soprattutto certamente la politica ha bisogno a questo punto di fare un lavoro di pressione perché queste cose vengono regolamentate non in modo rigido perché ovviamente la parola regolamentazione è sempre qualcosa che si porta dietro il sospetto che tu vai a imbrigliare delle forze reali e positive tutto sommato la California è cresciuta e riuscita a creare questa industria anche perché l'ha fatta in modo totalmente libero per dire Boston che all'inizio della rivoluzione informatica aveva delle aziende all'inizio alcune addirittura più avanzate di quelle della Silicon Valley è rimasta indietro perché a Boston era vietato rubarsi i cervelli da un'azienda all'altra e questo ha rigidito in qualche misura la struttura industriale ha creato dei protezionismi questo invece in California era possibile quindi per carità non bisogna creare dei sistemi di regolamentazione rigida ma non bisogna neanche rifiutare completamente la regolamentazione basta pensare a quello che è successo nell'industria dell'auto quando negli anni 60 la gente moriva per le strade con molta frequenza c'erano veicoli che non avevano citture di sicurezza non c'erano limiti di velocità e si sono cominciate a chiedere delle regole la modifica dei veicoli le industrie cominciarono a tumoreggiare dicendo qui si frena lo sviluppo dell'auto qui si impongono dei costi aggiuntivi poi un signore che si chiama Ralph Nader fece la sua campagna nel 65 riuscì a ottenere le leggi che hanno imposto le cinture di sicurezza che hanno imposto limiti di velocità che hanno imposto l'adozione di misure shock absorbers nei paraurti eccetera e in pochi anni i morti sulle strade americane sono diminuiti del 80% prima ne muoiono 100 adesso ne muoiono 20 ma è successo nel giro di pochissimi anni e l'industria automobilistica non ne ha subito nessunissimo danno anzi si è sviluppata come sappiamo poi nei decenni successivi in modo enorme quindi esistono degli spazi di intervento non non troppo aggressivi bisogna stare attenti perché poi l'altro problema è che se freni troppo all'industria americana rischi di lasciare spazio alla leadership cinese che sono anche un paese che tu ami e apprezzi però hanno una certa tendenza a usare la tecnologia in modo un po' invasivo se poi c'è spazio dopo parliamo anche dei loro programmi di rating universale con cui vogliono catalogare tutti i cittadini e dare un voto di comportamento a ogni cittadino che è una cosa piuttosto inquietante ma magari ce la lasciamo per dopo e secondo te in questa cosa cioè il fatto che ci sia questa nuova sensibilità perché prima era molto più egoista quel tipo di mondo cioè è possibile pensare a una sorta di nuovo rinascimento cioè il fatto che essendoci il privato che ha un capitale che comincia a interessarsi anche per questioni personali della cosa pubblica sia un posto che può produrre un'innovazione sociale o no? Sai il nuovo rinascimento è una bella espressione però la Silicon Valley è già di per sé un posto rinascimentale perché ha prodotto comunque noi vediamo adesso e denunciamo gli squilibri ma gli squilibri nascono dal fatto che comunque ha prodotto delle cose magnifiche molto utili a tutti noi e poi ci sono state anche delle ricature negative che non abbiamo saputo gestire quindi quando parliamo per esempio di diseguaglianze se tu riesci a eliminare o attenuare alcune di queste diseguaglianze l'aspetto rinascimentale di questa rivoluzione tecnologica diventerà molto più evidente certo che se la situazione è quella di oggi nella quale all'interno del recinto di Google Facebook o Apple c'è un mondo magnifico non solo di tecnologia e di disponibilità di servizi a tutti i livelli gratuiti e anche di persone che sono molto ben retribuite anche quando non svolgono funzioni intellettualmente avanzate ma sono dipendenti di Apple di Google compreso diciamo il guardiano che garantisce la sicurezza quelli sono ben pagati ma poi tutto intorno c'è questo mondo di servizi invece dati in appalto esterno ai contractors esterni tutto quello che è la gestione del catering dell'alimentazione delle pulizie dei trasporti del personale che da San Francisco vengono portati ogni giorno alla Silicon Valley tutti questi invece dipendono da subcontractor che li pagano molto meno stipendi che sono più o meno nella media americana ma che come appena ha spiegato te nella Silicon Valley sono assolutamente insufficienti e quindi queste persone decine di migliaia di persone forse centinaia di migliaia che lavorano per queste aziende passano la notte in auto a dormire per strada davanti ai cancelli o a un chilometro dove c'è un quartiere su il cammino nei camper esatto che li vedi e questo onestamente ha ben poco di rinascimentale è un po' di forti contrasti comunque perché se uno va in Canada non ha una sensazione radicalmente diversa per cui quello che non capisco è se l'uomo a un certo punto riesce a in una situazione come quella ad avere la visione a fare lo sforzo dipende dai quali attivi che riesce ad entrare tutti per esempio in questo caso di cui abbiamo appena parlato adesso questo qui degli squilibri tra i lavoratori delle società tecnologiche e quelli che svolgono servizi umili in parte queste diseguaglianze si stanno un pochino riducendo per un fenomeno apparentemente curioso che all'inizio quando l'ho visto mi sembrava una stranezza poi ho capito qual era il significato il fatto che nel posto meno sindacalizzato d'America la Silicon Valley in un paese d'America in cui i sindacati sono già scesi all'8% della rappresentanza stavano rinascendo i sindacati si stava diffondendo di nuovo il sindacato come è possibile è possibile perché appunto nelle aziende tecnologiche non c'entra perché non c'è bisogno perché sono tutti a reddito elevato delle aziende dei subcontractor pure non ci possono andare perché il subcontractor se ne frega ma quando loro hanno capito che potevano sporcare l'immagine dei giganti tecnologici e li hanno messi spalle al muro su questo hanno ottenuto il risultato e hanno cominciato a organizzare le manifestazioni di questi soprattutto latinos che facevano questo tipo di attività sono stati gli stessi capi di google di facebook eccetera a dire è il subcontractor noi vi paghiamo meglio ma voi pagate meglio questi dipendenti perché se no abbiamo un danno di immagine gigantesco un esempio di azione comunque che porta diciamo dalla parte di cosa puoi fare rispetto a un sistema che voglio dire sono quelli che gli danno a mangiare che crescono i loro figli però appunto è abbastanza singolare che in questo caso questo lavoro lo faccia un tipo di organizzazione sociale politico sociale che in qualche modo noi consideriamo il passato è qualcosa che comunque anche in Italia ormai i sindacati rappresentano soprattutto i pensionati in quel caso hanno avuto un'efficacia quindi in ogni circostanza diversa ci sarà una risposta diversa a mio avviso sai sull'empatia sinceramente non so come la intendi cosa avevi in mente rispetto a quello che no io credo che tu riferissi al fatto che nel libro si dice che i mestieri che possono ancora sicuramente avere un futuro sono quelli legati all'empatia perché sono quelli che la macchina più difficilmente imparerà legati all'empatia legati a rapporti interpersonali legati alla capacità negoziale perché lì la macchina fa più difficoltà arrivare in questo senso dicevi tu e se questo può avere anche un ruolo proprio in questi tipi di tensione sociale che avete appena descritto secondo me è interessante capire non so se uno pensa a cos'è un movimento che crei cos'è che può scuotere puoi far vedere uno scenario più interessante attraverso delle azioni che mettendo insieme certe persone rendendoli evidenti sai che qualcuno che già ha il nervo scoperto su quel problema possa aderire cioè è una cosa che sto cercando di capire cioè la mia diciamo l'anno sabbatico che mi sono preso a San Francisco è un po' a quella finalità lì cioè perché comunque l'esperienza di fatto per me è stata quella di vedere un altro modo in cui si fanno le cose cioè non so il fatto una delle cose più mi pare che ne parli nel libro ma la scalabilità dei business il fatto di come sapendo quello che quanto saper fare c'è da noi e come chi è piccolo rimane piccolo e fa fatica a trovare chi lo aiuta a entrare nel mercato chi lo aiuta a costruire un valore aggiunto viviamo diciamo in una zona raccontavo prima veniva in macchina che mi chiedeva cos'è il tessuto produttivo della zona abbiamo una piccola industria con una qualità altissima da diversi livelli di tipi di produzione però siamo un paese di terzisti non siamo un paese che sappiamo confezionare tutto il pacchetto l'esperienza lì è sempre che il pacchetto te lo sanno confezionare da una piccola cosa c'è un sistema per cui questa cosa qui diventa un prodotto vendibile distribuito quello che mi piacerebbe poter contribuire ma non capisco mai da che parte riesci a prenderlo tu ne sai molto credo di questo sia proprio come imparare quello di buono che c'è in America per esempio sul come avere l'idea di 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 creare di nuovo sviluppo lì in questo momento quello che respiri siccome se uno non viaggia non lo sa ma voglio dire in questi posti hai l'idea di un'economia in piena esplosione in qualche modo ogni ogni buona idea diventa di conseguenza un successo questa qui diciamo a parte appunto l'empatia in sé ma il fatto di capire quali sono gli strumenti che servono per per poter fare le cose voglio dire voi con il gruppo vostro avete a che fare con tante realtà industriali allora lo chiedo a te adesso faccio a te la domanda perché noi facciamo così fatica secondo te avendo anche tu conosciuto quel tipo di mondo è proprio perché facciamo fatica che forse abbiamo ancora la risposta e non vorrei dare una risposta banale a questa domanda perché ce la facciamo ogni giorno in questo momento a differenza magari anche non so 4-5 anni fa in cui si parlava di innovazione comunque con curiosità c'era il ministro Passera Italia Startup c'era comunque un'accezione propulsiva in Italia su fare il nuovo ora il nuovo è un po' confuso e quindi da quello che sto vedendo anch'io insomma che basta vedere qui localmente il nuovo alcune imprese non so pensando a Benetton o Luxottica poi il professor Costa magari ne può parlare anche con più con più con più cognizione anche di me ma si sono scelte strade inaspettatamente che magari hanno la forza propulsiva e l'energia che si cerca nel nuovo ma che ritorno a chi il nuovo l'ha saputo interpretare all'origine e quindi il ritorno di Luciano Benetton il ritorno di Del Vecchio e devo dire che per quello che si vedeva io non ho una visione negativa su questi ritorni la visione negativa ce l'ho più su su altri magari principianti o aspiranti nuovi che cercano con la forza solamente con la forza insomma di farsi strada e forse è un sistema che non ancora non si è ancora insomma rodato per per fare spazio al nuovo a quello giusto a coltivarlo a selezionarlo a spronarlo ecco è un po' questo è che ha il rischio una perdisposizione al rischio o no? sì e quindi la formazione e quindi anche come tu sei predisposto a rischiare e a dire qualcosa un po' fuori dall'aspettato sin dall'asilo direi questo questo sì almeno per me bene io aprirei a a voi ho visto Maurizio che ha già con il microfono Maurizio io sono seduto vicino a lui quindi tocca sempre a me la prima domanda comunque è molto semplice in questo divenire delle cose nell'ambito di queste corporazioni nuove che sono sorte a governarci la vita la mia domanda è molto semplice quale etica dobbiamo adottare cioè la ricerca di cibi c'è quale progettualità il modo di trovare ma la mia domanda è che cosa dobbiamo fare per creare un'etica nuova e fronteggiare queste situazioni che si stanno impadronendo della nostra vita in tutti i sensi voi avrete visto Player One Ready di Spielberg quale è un capito meraviglioso di come la realtà virtuale costringe la gente in casa dentro le baracche a fare gesti in consulti da soli in un mondo che praticamente esiste soltanto nella virtualità Noah Harari a pagina 207 dell'edizione inglese dice le nostre le nostre le future cioè le organizzazioni che abbiamo già ne aggiungeremo delle altre avremo religioni totalitarie ancora di più però non siamo in grado di distinguere tra la realtà virtuale e la finzione tra la scienza e la religione e quindi faremo sempre più fatica a capire come muoverci quale etica perché secondo me anche un giornalista che vede il siparietto che circola in questi momenti tra Di Maio e Salvini quando dicevano l'uno dell'altro tutto quello che potevano poi hanno fatto il governo sì alla fin fine è chiaro di fronte a un elettorato che prende le informazioni per buone quando gliele dai se sapevi quello che succedeva ragionavi in maniera diversa quindi dal punto di vista giornalistico dal punto di vista delle istituzioni che cosa si può fare per proporre un messaggio che convinca la gente ad uscire da questo circolo vizioso dove la portata Facebook Twitter Instagram e tutto quello che segue insomma questo è il vero secondo me nodo per poter poi affrontare anche il resto chiedere una visione etica al giornalista è un po' complicato in un sistema economico comunque liberale in un sistema nel quale la tecnologia sviluppa gradualmente dei prodotti che gli utenti utilizzano queste cose avvengono in modo graduale ed è difficile mettergli una camicia di forza e regolamentarle io appunto prima ho parlato della necessità di introdurre alcuni criteri alcune regolamentazioni sicuramente alla logica dell'assolutismo dell'algoritmo bisogna porre un limite bisogna porlo ad esempio imponendo a chi sviluppa questi algoritmi di rendere in qualche modo noto il loro contenuto e il loro funzionamento perché come diceva la settimana scorsa a un convegno a quale ho partecipato alla bagnaia in Toscana di editori e imprenditori delle tecnologie non si capisce bene per quale motivo in ogni prodotto alimentare deve essere indicato che cosa c'è dentro quanti grassi quante calorie quanti coloranti artificiali eccetera perché bisogna tutelare la nostra salute e algoritmi che hanno un'incidenza sulla nostra vita sulla nostra essenza in termini di comportamenti sociali politici eccetera invece sono cose che noi utilizziamo totalmente a buio senza conoscerne il meccanismo il funzionamento e le implicazioni fino al punto che poi governano dei processi e cambiano i comportamenti sociali cambiano le decisioni possono essere accettati da un'azienda o da una scuola sulla base di un algoritmo che valuta in modo stravagante il proprio curriculum o addirittura il fatto che l'azienda o la scuola ha scoperto nel database della rete sociale delle immagini di quando da ragazzi siano bevuti degli alcolici da minorenni che in America è una cosa di una gravità inaudita e già per questo si può essere esclusi perché si ritiene che si tratti di un candidato che è propenso all'illegalità e quindi già per questo si può essere esclusi non saprai mai se l'algoritmo funziona in un certo modo perché sei stato escluso perché il tuo curriculum non era adeguato perché i tuoi voti i tuoi risultati le tue esperienze di lavoro non erano adeguate o perché invece hanno semplicemente scoperto che c'è una foto che ti ritrai quando avevi 16 anni che vomitavi per aver bevuto eccessivamente e questo è soltanto un esempio molto banale ma di problemi di questa natura ce ne sono a Iosa quindi il profilo etico andrà definito intervenendo su tutte queste aree ma non è così immediato e così semplice né è possibile a mio avviso creare un meccanismo centralizzato gestito da un governo che intervenga su tutte queste materie io credo che il profilo etico sia rilevante soprattutto rispetto a cercare di limitare la crescita delle diseguaglianze perché e qui torno al titolo del libro io ho usato questa espressione homo premium che vuole indicare il rischio che l'homo sapiens vada verso un futuro nel quale c'è una divaricazione fra un homo sapiens potenziato quindi l'uomo premium che ha accesso a tecnologie a cure a innovazioni della genetica e a livelli individuali ovviamente che gli consentono di diventare qualcosa di diverso anche dal punto di vista appunto della della genetica rispetto all'uomo standard come dire e quando questa cosa ci abbiamo riflettuto a lungo anche con altri amici che si occupano dei stessi argomenti mi sembrava una tesi un po' fortina onestamente quando poi appunto ho letto il libro di Harari che a mio avviso è ancora più apocalittico ancora più estremo su alcune questioni con il suo homo deus ho deciso invece di rompere gli indugi e di usarlo citando anche ovviamente l'ispirazione nel libro si parla molto del libro di Harari il quale secondo me è forse eccessivamente apocalittico perché arriva addirittura a ipotizzare che appunto è il vero problema etico che è la base di tutto la possibilità che l'uomo non premium che non ha più un lavoro perché la macchina ha imparato a fare perfettamente le cose che lui sa fare e che quindi diventa in qualche modo un uomo per noi difficilmente impiegabile un uomo che può essere destabilizzante dal punto di vista politico e potale per rabbia che è in modo poco riflessivo e che quindi va accompagnato e va riaddestrato eccetera invece per l'intelligenza artificiale poco etica secondo Harari si può creare una situazione nella quale la macchina arriva alla conclusione che quest'uomo va soppresso perché è totalmente inutile e improduttivo e addirittura pericoloso per la stabilità sociale poi nell'ultimo capitolo ci dice che poi forse il futuro non è così cupo se impariamo a fare le cose in modo diverso non ci arriveremo però diciamo che gli imprenditori delle tecnologie che hanno più sensibilità etica come Bill Gates come lo stesso Elon Musk l'imprenditore di Tesla e di SpaceX quello che ci vuole portare tutti quanti su Marte perché stiamo distruggendo la Terra sono molto preoccupati da questa prospettiva e stanno cominciando a ragionare sulla necessità di evitare che l'intelligenza artificiale possa arrivare ad avere una superiorità intellettuale rispetto all'uomo a mettere sotto controllo l'essere umano quindi scenari di questo tipo se ne stanno facendo un altro scenario etico molto importante riguarda la guerra la possibilità che un uso sempre più diffuso della tecnologia sul campo di battaglia adesso lo vediamo nell'uso dei droni che consentono di bombardare di colpire obiettivi in qualunque parte del mondo senza rischiare i propri soldati sempre più spesso avremo sui campi di battaglia dei robot in grado di combattere sul campo di battaglia che questa cosa possa creare in futuro abbattere la soglia psicologica che porta i governi i capi di Stato a non scatenare una guerra anche per paura di avere delle perdite consistenti di portare a casa i propri soldati nei sacchi di plastica quando questo rischio cala ovviamente ci può essere un incentivo in più ad alimentare i conflitti anche questo è un problema etico non da poco sono problemi numerosi e molto complessi che vanno affrontati a vari livelli con vari strumenti buonasera sono Antonio volevo chiedere prima di tutto una considerazione parlavamo prima di start-up e imprese innovative io abito a Milano vedo molto spesso i fattorini il food delivery e penso a Milano ha più o meno 2 milioni di abitanti ci sono 6 piattaforme di food delivery per 2 milioni di abitanti se andiamo a vedere i bilanci di queste aziende sono terribili cioè si parla addirittura per esempio Foodora ha una perdita secca netta alla fine del conto economico che è tre volte i ricavi quindi sono situazioni incredibili e parlandone con un mio professore di finanza diceva che c'è spazio solo per una piattaforma di delivery però tutti quanti adesso ci investono parliamo di un caso ancora più macroscopico Tesla che supera la capitalizzazione di mercato di Ford c'è veramente motivo producendo un decimo forse neanche delle sue macchine e quindi credo ci sia anche un po' da ragionare su questa corsa alla tecnologia dell'idea migliore che ci sia mai prodotta che alla fine poi crea degli squilibri dei problemi vediamo i primi i primi scioperi dei rider se no proprio in questi giorni che credo ci sia da riflettere ma volevo farvi una domanda leggevo oggi un articolo del The Atlantic che diceva il giornalista era molto preoccupato perché gli assistenti personali quindi Siri Alexa Cortana eccetera noi ci approcciamo a questo tipo di tecnologie in modo molto come si dice deciso cioè non chiediamo mai per favore Siri mettimi una canzone oppure a Google Home diciamo chiudimi le tapparelle non chiediamo per favore chiudimi le tapparelle quindi questo giornalista si poneva una domanda ma se un bambino di uno due tre anni cresce vedendo e dando ordini ad un geggetto chiudimi la tapparella cosa succederà quando quel bambino crescerà cioè dobbiamo preoccuparci dobbiamo iniziare quando anche scriviamo codice quando programmiamo scriviamo per favore se succede questo allora l'ordine è quest'altro come ci dobbiamo porre su questo credete che ci sia da preoccuparsi oppure il giornalista sta un po' esagerando mi interessa molto ne parlavamo c'è qui Susanna come abbiamo parlato molto perché c'era poi un bellissimo articolo di un nuovo gioco adesso non mi ricordo chi l'ha fatto un super gioco in rete dalla parte dei robot che fanno diversi mestieri dove sembra che vengano fuori come i nuovi schiavi che si lamentano tra di loro di come vengono trattati perché è una cosa proprio letta di recente io ho mia cognata che ci arrabbia con Alexa che la trova una cosa sconvolgente ah perché ci tiene Alexa in casa tenerti qualcuno che ti ascolta sempre è già una cosa un po' inquietante in sé ma il fatto di quello che dici tu è che lo trovo veramente sembra come che si stia crescendo e dopo non sappiamo se ci sarà la vendetta come si chiama il film quello con Will Smith quello io ero sì cioè che di fatto io secondo me trovo scandaloso che uno si comporti male e come dici tu i figli si comportino male perché ti dà l'idea che ci sia sempre questo bisogno di trattare male qualcun altro che non ha siccome è in qualche modo un'entità pensante per quanto diciamo artificiale sai c'è per esempio lo scandalo quello in Inghilterra c'era per i pedofili che c'erano la storia di fare i robot bambini allora dicevi cosa è giusto rispetto al problema della pedofilia che si facciano i robot bambini è una cosa di uno squalore spaventoso voglio dire cioè si aprono degli scenari abbastanza apocalittici in un certo senso e il discorso dell'etica secondo me ci sarà un grosso problema cioè ci sarà un grossissimo interessante problema di etica rispetto a chi ci aiuta pur non essendo umano prego rispetto al discorso di Foodora si credo anch'io che le piattaforme si siano moltiplicate eccessivamente perché negli anni secondo me gli imprenditori hanno visto che intanto tutti hanno voglia di sperimentare il nuovo quindi chi fa una start up spera sempre che la sua sia quella vincente e poi spesso e volentieri le società della Silicon Valley hanno acquistato valore anche capitalizzazione e fiducia dei mercati anche senza avere risultati economici basta pensare alla crescita di Amazon che per anni ha reinvestito cifre imponenti quindi andava in disavanzo e continuava a crescere il suo valore di borsa poi a un certo punto in poi ha cominciato a girare la stessa Tesla che tu citavi effettivamente ha dei risultati economici se vogliamo spaventosi eppure ha un grande valore di borsa anche se poi adesso ogni tanto qualche batosta la prende però lì c'è di mezzo un imprenditore particolare che vuole sempre sperimentare vuole sempre andare avanti tentare l'impossibile quindi automatizza le catene di montaggio non gli sta funzionando ha dei colli di bottiglia sui nuovi prodotti e già sta pensando a mettere in cantiere un nuovo SUV in un sistema di produzione ancora più automatizzato e c'è un dibattito aperto anche a livello finanziario da chi dice facciamolo tentare perché comunque questo ci sta portando verso il futuro e chi dice no se non portano risultato economico il sistema funziona in questo modo è giusto che fallisca per quanto riguarda l'educazione a rapporto con le macchine non ti saprei dare un giudizio non sono un eticista credo che anche in passato chi cresceva nella villa di un ricco capitalista che aveva il maggiordomo probabilmente non gli chiedevano per favore di fare qualcosa anche al maggiordomo in carne ed ossa a me onestamente il rapporto con Alexa e con questi assistenti personali mi lascia perpresso più da un altro punto di vista il fatto che ti abitui a interloquire con una macchina ad avere una presenza alla quale demandi molte cose che crea anche delle situazioni a volte di equivoco anche nei rapporti interpersonali perché per portare da letto che di recente Google ha cominciato a sperimentare questo sistema che si chiama Duplex che è la capacità del loro assistente personale di oltre a rispondere per servizi domestici al proprio padrone di casa di fare anche delle funzioni esterne tipo prenotare un ristorante prenotare un taglio di capelli o una messa in piega o un colore di capelli presso il padrucchiere e Sund Pichai l'amministratore delegato di Google l'altro giorno alla conferenza degli sviluppatori ha fatto vedere questo sistema sperimentale e lui l'ha fatto con orgoglio è uno dei casi in cui non si rendono conto poi delle conseguenze di quello che mostrano in realtà la cosa ha provocato un certo sconcerto perché il suo orgoglio dipendeva dalla raffinatezza della macchina ma poi le conseguenze sono quelle che sono la persona che risponde alla chiamata del robot il ristoratore o il padrucchiere non capisce che sta parlando con una macchina perché hanno riuscito a creare una macchina che imita anche le inflessioni di voce i dubbi di di una persona in carne ed ossa quando lui dice ma che cosa vuole fare solo il taglio o anche la messa in piega e lui fa beh insomma ha una serie di atteggiamenti per cui la telefonata si conclude con chi fornisce il servizio che non ha capito che ha parlato con quindi problemi etici se ne creeranno a dismisura a me quello che preoccupa di più è la possibilità che questa macchina non solo ti fornisca dei servizi ma ascolti anche quello che tu dici in casa lo registri e lo possa poi rivendere nell'ambito di quel discorso che è stato fatto tante volte in questo periodo entrare in questo gigantesco tritacarne della rivendita dei dati a tutti i livelli e quindi ritrovarsi che quello che si è detto in casa se poi viene utilizzato invece non in modo commerciale ma a fini politici la cosa diventa ancora più inquietante come è successo con Cambridge Analytica io mi fermerei un momento sulla parte del libro che vede il problema sostituzione dell'uomo con la macchina e il problema dell'empatia che ponevi il computer è difficile che sia in grado di generare empatia poi ci sono queste varianti dovute all'interazione però mi pare che il problema in cui io vedo anche grandi margini di libertà è che tutte le cose che dipendono da interazioni uomini in macchina di tipo transazionale cioè che possono essere codificate previste rientrare in un numero limitato di risposte lì è bene che la macchina ci sostituisca perché ci semplifica la vita perché ci rende disponibili per fare molte altre cose io credo che quello che manca alle macchine e che quindi darà degli spazi infiniti agli uomini e alle donne naturalmente è la capacità di generare significati quindi non è tanto l'empatia ma è una capacità combinatoria di elementi standardizzati che vengono personalizzati in un rapporto unico e irripetibile questo è quello che rende l'uomo diverso proprio da qualunque altro e che aprirà degli spazi secondo me molto ampi quindi io sono tra gli ottimisti da questo punto di vista cosa significa la capacità di generare significati Carl Wake un sociologo austriaco immigrato negli Stati Uniti nel proprio nel sense making fa questo esempio durante la seconda guerra mondiale un un drappello una compagnia di di alpini forse in Russia come va di là si trova non riesce più a trovare la strada sono in una situazione di assoluto panico e nessuno riesce a prendere in mano la situazione il capitano a un certo momento ha un'idea fruga nello zaino e tira fuori una cartina consulta la cartina e poi dice la direzione è questa tutti seguono quella direzione si salvano quando sono arrivati al campo base hanno scoperto che la cartina era una cartina dei Pirenei quindi non c'era il GPS cosa significa generare significati ecco io posso avere il GPS posso avere tutti gli altri strumenti ma quello che differenzierà l'apporto unico irripetibile originale degli uomini è proprio questo la capacità di generare significati e la capacità combinatoria quando gli algoritmi ci spingono tutti verso l'omologazione scartando tutti ci saranno spazi molto 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 grandi in questa direzione ecco volevo sentire un po' la vostra reazione a queste osservazioni è un'analisi molto profonda tu l'hai fatta molte altre quindi credo che tu abbia sostanzialmente ragione la capacità umana di risolvere i problemi utilizzando dei parametri che non sono replicabili dalle macchine è sicuramente un patrimonio che oggi abbiamo e che dobbiamo in qualche modo preservare certamente il fatto che siano usciti dai dai guai che avevano pensando di andare sui piedi ha comportato anche appunto un altro elemento di casualità quello che una volta chiamavamo lo stellone italico nel caso nel caso nostro diciamo quindi sicuramente è vero però secondo altri addirittura invece le macchine impareranno anche a saper gestire delle situazioni molto complesse in cui si tiene conto anche di fattori di questo tipo alcuni dicono addirittura che potranno diventare perfino empatiche potranno perfino imparare oggi per esempio in una delle cose più positive che abbiamo visto nell'applicazione della tecnologia cioè il computer tipo Watson che hanno una capacità di diagnosticare il cancro che è assolutamente incomparabile con quella di qualunque oncologo anche il più bravo e il più intuitivo del mondo perché hanno una capacità di mescolare un database di tutti i casi che si sono verificati di quello specifico tipo di tumore anche di individuare rispetto al parrimonio genetico di ciascuno enzimi eccetera quali sono i medicinali biotecnologici più adatti ai quali un organismo sa reagire o no e l'oncologo gli dice sì io comunque sarò sempre insostituibile perché poi comunque ci deve essere qualcuno che parla col paziente che ne capisce la psicologia che sa qual è il paziente al quale va detta la realtà in modo brutale anche perché uno che tende a non curarsi con attenzione invece deve capire e qual è invece un paziente più vulnerabile che invece è trattato con maggior delicatezza ci sono anche dei scienziati come me ne ha parlato tempo fa Briolfson che insieme a McAfee ha scritto dei libri illuminanti su queste cose e che è considerato un tecno ottimista uno che dice che comunque ci sarà sempre lavoro ci saranno sempre opportunità per l'uomo che proprio su questo proprio perché un tecno ottimista comincia a pensare che il progresso dell'intelligenza artificiale sia talmente rapido che alla fine l'intelligenza artificiale sarà anche più brava dell'oncologo anche nell'individuare il tono di voce da usare nel parlare con il paziente perché ha la capacità esaminando il volto le espressioni l'atteggiamento del paziente la sudorazione eccetera di capire meglio del medico chi ha davanti ripeto qui andiamo verso scenari abbastanza apocalittici abbastanza lontani del tempo a mio avviso quindi rischiano di diventare a questo livello quasi chiacchiere da bar perché io non ho competenze neanche tecnologiche per sapere se questo è vero o no e se un giorno veramente verremo giudicati da interroguire con macchine di questo tipo certamente si stanno creando delle situazioni che mai avremmo immaginato in passato io mi ricordo quando per vecchie passioni mi sono occupato a lungo di industria aeronautica si è sempre detto che mai e poi mai la gente avrebbe accettato di volare su un aereo senza pilota oggi come oggi ci si sta cominciando a dipensare perché intanto la gente sta viaggiando su treni senza macchinista e a volte non lo sa neanche e chi lo sa scopre che sono molto più sicuri di quelli col macchinista perché in America dove le ferrovie sono tra le cose più atterrate che possano esistere la straccia rossa qui è una roba da marziani se rapportato alla realtà americana ogni volta che un macchinista di un treno americano si addormenta c'è un treno che finisce dentro una stazione e sfonda le barriere perché non c'è nessun sistema quindi in quei casi lì e anche appunto a livello di aeronautico si comincia a ritenere che stante che i pochi incidenti che ci sono stati negli ultimi anni sono stati prevalentemente provocati da errori di pilotaggio di piloti che non sanno più pilotare nel momento in cui si disattiva il piloto automatico non sono più in grado di reagire con prontezza e di capire quello che sta succedendo probabilmente andremo verso una maggior fiducia anche nei confronti di queste cose quindi sono scenari ancora difficili da disegnare nella loro interezza a me sai cosa colpisce di più è l'idea il concetto della compassione cioè la macchina può avere compassione c'è un magari voglio dire c'erano programmi sempre più sofisticati possono essere discorsi da bar però voglio dire se avrà più compassione l'uomo o la macchina chi lo sa cioè non in questo momento tu dici la compassione tu non puoi pensare che una macchina possa avere un sentimento come la compassione perché si pensa sempre che cerchi la soluzione migliore cosa è di fronte diciamo a dei temi difficili complicati la reazione diciamo sarà così sofisticata da essere più bravi di noi a essere compassionevole o no cioè sarà è un'entità razionale come la vediamo adesso o può diventare qualcosa che anche diciamo nel capire delle cose più profonde possa essere d'aiuto inoltre la compassione devi pensare anche ad altri fattori secondo me per esempio al pregiudizio perché è un altro settore nel quale si è sempre detto non accetteriamo mai di essere giudicati da un giudice robot e adesso comincia tra le gente che ti dice però il giudice robot potrebbe non avere pregiudizi a differenza del giudice in carne ed ossa che può essere la magistratura quello che dice Berlusconi che è la magistratura deviata da pregiudizi ideologici eccetera mentre in teoria il giudice robot ha una casistica di casi simili vede come sono stati giudicati e si adegua mi rifaccio la battuta della della persona che ha parlato prima dal fondo ha fatto riferimento alle vicende delle governative di questi giorni oggi è cominciato il festival dell'economia a Trento dove andrò domani e oggi è stato inaugurato da un economista del lavoro di Harvard si chiama Richard Freeman io l'ho intervistato per il Corriere beccandolo in Corea tra l'altro l'altro giorno è uscita domenica e lui che pure è un tecnolo scettico diciamo per certi versi però mi ha fatto proprio quella battuta lì mi ha detto però in certe circostanze forse perfino io ammetto che il computer può essere una soluzione anche a problemi umani complessi per esempio forse riuscirebbe a dare un governo al vostro paese diceva erano i giorni in cui ancora eravamo ovviamente nel malasma più totale bene io vi ringrazio penso che abbiamo fatto una riflessione ben approfondita e buona serata a tutti grazie